Si prega di depositare gli oggetti metallici nella cassettiera. Buongiorno, devo pagare delle bollette. Buongiorno signora, deve andare allo sportello 1 e mettersi in fila. Buongiorno, vorrei aprire un conto corrente. Sì, certo. C'è l'offerta base per i nuovi correntisti. Il canone annuo ed il bollo non si pagano. Inoltre è inclusa una carta di debito circuito Visa, senza costi di emissione, con la quale può ritirare denaro da tutti gli ATM delle nostre filiali a zero spese. I bonifici ed i giroconti sono gratis. Sì, è perfetto. Per l'apertura del conto mi servirebbero un documento di identità valido ed il suo codice fiscale, per favore. Eccoli. Bene, dovrebbe compilare questo modulo con i suoi dati personali e firmare. Certo, vorrei accreditare lo stipendio direttamente su questo conto corrente. È possibile? Sì, per farlo basta comunicare l'Iban al suo datore di lavoro. Questa è la copia dei documenti che ha firmato. Trova il codice A, B, CAB ed IBAN. La carta di debito? Riceverà la carta di debito e il suo codice PIN direttamente a casa tramite posta. Bene, la ringrazio. Buongiorno, vorrei depositare dei soldi sul mio libretto di risparmio. Sì, quanto vuole depositare? 200 euro. Mi dia il libretto e la sua carta di identità, per favore. Mi potrebbe anche dire se è già stata accreditata la pensione? Un attimo che controllo. Sì, è stata accreditata. Ecco fatto. Trova l'operazione annotata sul libretto. Buongiorno, vorrei fare un cambio di valuta. Sì, che valuta vuole cambiare? Dollari statunitensi in euro. Qual è il tasso di cambio attuale? Un dollaro americano vale 0,82 euro. Va bene, vorrei cambiare 500 dollari. La commissione di cambio è di 10 euro. Ecco a lei le banconote in euro e la ricevuta. A presto. Buongiorno, devo fare un bonifico. Sì, certo. Deve compilare questo modulo. Deve indicare tutti i dati dell'ordinante, cioè lei. L'importo del bonifico. La causale, cioè il motivo per cui fa il bonifico. La data ed il suo IBAN. Deve anche inserire tutti i dati del beneficiario. Va bene, grazie. Deve anche firmarlo e darmi un documento di identità valido. Il bonifico ha il costo di un euro. Ecco a lei. In quanto tempo il beneficiario riceverà il bonifico? In due giorni lavorativi. Perfetto. Un'altra cosa. Vorrei fare la domiciliazione delle utenze. È possibile? Sì, vedo che lei ha un conto aperto presso la nostra banca. Quindi può addebitare automaticamente le bollette sul suo conto. L'attivazione è gratuita e non ci sono commissioni per questo servizio. Ottimo. Deve solo compilare questi moduli ed allegare le bollette. Buongiorno, vorrei prelevare del denaro con la mia carta. Può farlo direttamente all'ATM laggiù. Va bene, grazie. Devo fare un prelievo. Inserisco il codice PIN. 100 euro. Non ho bisogno della ricevuta cartacea. Ecco fatto. Ritiro i soldi e la carta. Buongiorno, vorrei investire i miei risparmi. Sì, certo. Si può accomodare nell'ufficio in fondo, dove c'è un consulente finanziario a sua disposizione. Buongiorno, sono qui per fare un investimento. Buongiorno. Per quanto riguarda gli investimenti, ci sono diverse opzioni. Le più comuni sono i titoli di Stato, le obbligazioni e le azioni. Vorrei investire in qualcosa di sicuro, a basso rischio. Allora le consiglio i titoli di Stato, ma il rendimento è piuttosto basso in questo periodo. Abbiamo titoli a breve, medio e lungo termine. Buongiorno, sono qui per richiedere un finanziamento. E qui per richiedere un prestito personale o finalizzato? Un prestito personale. Avrei bisogno di 20.000 euro. Lei è residente in Italia ed ha un conto presso questa banca? Sì. Bene, dovrebbe preparare tutta la documentazione fiscale. Abbiamo bisogno di verificare la sua situazione economica. Per avere un finanziamento, deve avere un reddito dimostrabile e delle garanzie. Dopo aver avuto queste informazioni, discuteremo della durata del prestito, del numero di rate e del tasso di interesse. Va bene, a presto. E tu, sei pronto per entrare in una banca italiana? Se ti è piaciuta questa lezione, lascia un bel like ed iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! 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 Grazie a tutti.